La felicità, no? No, stiamo parlando, riparlando, riflettendo, forse è sempre un parlare destinato a non produrre nulla, eppure noi dobbiamo credere che la felicità è possibile, ma non ricercandola nelle grandi cose come abbiamo cercato di vedere in questo tempo, in questo nostro viaggio, ma andando nella profondità di noi stessi. La poesia, per esempio, l'arte, la musica, la danza, sono il più delle volte l'espressione della di un cuore felice, ma ahimè anche di un cuore infelice. E oggi vorrei ricorrere ai versi di una poetessa italiana, Mariangela Gualtieri, che in questi versi che vi leggerò, ci fa comprendere come la felicità è possibile in una simbiosi tra la creatura e la natura, tra la persona e il cielo. Ascoltiamo questi versi della poetessa Mariangela Gualtieri. Io guardo spesso il cielo, lo guardo di mattina nelle ore di luce, e tutto il cielo si attacca agli occhi e viene a bere, e io a lui mi attacco come un vegetale che si mangia la luce. Parole che mi fanno veramente riflettere, io non sono un poeta, non meno sono un critico di poesia, ma queste parole mi entrano dentro, io guardo spesso il cielo. Quanti di noi oggi hanno ancora la capacità di alzare gli occhi, di guardare il cielo? E anche quando lo facciamo, siamo capaci di dialogare con questo cielo? Siamo capaci di penetrare nel mistero del cielo? Siamo capaci, come dice Gualtieri, di far sì che il cielo si attacchi ai miei occhi? Che tutto il cielo si attacca agli occhi e viene a bere, cioè viene a dissetarsi. Il cielo si disseta da me, il cielo si disseta dagli occhi di una persona. E poi, noi siamo capaci di attaccarci al cielo, di nutrirci di luce, di mangiare la luce, come dice la Gualtieri, di entrare nella luce e di farci, come dire, avvolgere, entrare in osmosi con la luce. Vedete, questi versi che dicono non sono solo versi di una brava poetessa o di una persona che pensa, che studia, che ha questo dono di poter leggere, come dire, nel cielo e poi di trascrivere le sue emozioni, le sue sensazioni, di poterle poi trascrivere in poesia. No, la poesia, questa poesia è il frutto di un cuore pieno di felicità perché pieno di luce. Vi aspetto domani, Parli Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!